Il Tormina Food Expo ha incarnato un periodo edificante per le sorti della cucina regionale, facendo tappa al porto a Catania Parking di Tormina per quattro intense giornate, e mettendo in luce nove province siciliane che hanno estratto dalla storia della loro popolazione la ricetta originaria del territorio. Ciascun piatto selezionato accuratamente per ogni città, da CNA Sicilia e il suo comparto agroalimentare, con la collaborazione di Unione Regionale Cuochi e Pasticceri Siciliani, acquisirà, secondo questo progetto, il marchio STG, o specialità tradizionale garantita, mentre la propria squisitezza e la propria storicità sono state dimostrate dal vivo durante i cooking show previsti nella Kermesse e compiuti dagli chef dell'associazione. Per le tavole rotonde a Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, gli argomenti hanno coinvolto istituzioni CNA Nazionale Sicilia, politici ed esperti. Nella filiera agroalimentare Sicilia, potenzialità e sviluppo delle produzioni a marchio IG, ad intervenire sono stati tra gli altri pure il sindaco della città metropolitana Basile, che ha lanciato magari una Messina Food Expo, con la CNA e il vice sindaco di Taormina, che ha sottolineato la necessità di destagionalizzare gli eventi. Evitiamo di fare scappare ancora i giovani delle nostre città e offriamo di più partendo dall'integrazione delle politiche agroalimentari, ha tonato così il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina. Creiamo una impalcatura strutturata per fare sistema tra le nostre risorse umane, ha chiusato il segretario generale CNA Gregorini. L'associazione AgriForum ha garantito invece una fonte di spunti con diversi contributi, simulanti anche tutti i focus, con l'intervento della coordinatrice nazionale CNA Professioni, Cristiana Alderighi, e del presidente della terza commissione ARS Attività Produttive, Gaspare Vitrano. Fino al doppio dibattito di domenica, uno di carattere politico dal titolo Cibo, Società e Politica, e un altro dal titolo Cibo e Turismo, Binomio Vincente.